Buonasera e bentornati su No Mamamazzo, speciale video riassuntivo per la notte degli Oscar. Però l'hanno fatto tutti, l'hanno fatto sicuramente youtuber più influencer di me, di conseguenza di che stiamo a parlare. Però voglio comunque fare un piccolo recap anche io, ma inoltre, così tanto per fare il solito bastian contrario, vorrei anche parlare un pochino dei Razzi Awards. Per chi non sapesse cosa sono i Razzi Awards, sono il contrario degli Oscar, ovvero è un premio che è stato istituito più recentemente dagli Oscar, dove si premiano i peggiori film e i peggiori attori che vi hanno recitato. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche agli altri così a fiducia di attivare la campanella delle notifiche, di condividere il video con tutte le persone che amano il cinema e di commentare con tutto quello che ve ne pare a voi di questi fantastici Oscar. Ma dirò di più, anche di questi fantastici Razzi Awards, ma dirò di più, commentate anche qualcosa su Sanremo, ma che caccio se ne frega a noi. Cominciamo con un piccolo recap degli Oscar. La vittoria a miglior attore non protagonista è andata a Brad Pitt per C'era una volta ad Hollywood. Sono molto felice di questo, condivido pienamente questa premiazione. Ho fatto una video recensione su C'era una volta ad Hollywood che vi metto qui da qualche parte in alto, quindi andatevela a recuperare e se vi va è corta, sono dieci minuti, non vi tedierò più di tanto. Successivamente invece, come miglior film di animazione tra i vari candidati, c'erano Klaus su Netflix, che ho visto, mi è piaciuto tantissimo e mi è dispiaciuto tantissimo non poter fare la recensione, ma passato Natale non ho voluto parlare di un film di questo tipo. Se volete la recupero e vi farò la recensione, scrivetemelo nei commenti. Poi c'era Dragon Trainer 3, il mondo nascosto, c'era Missing Link e Dov'è il mio corpo che non conosco, ma so che sono su Netflix, quindi li recupererò. E infine Toy Story 4. Di Toy Story 4 io ho fatto un video di 30 minuti dove fondamentalmente lo seppellisco, non perché non sia un bel film, ma perché a mio parere abbia rovinato, diciamo, la caratterizzazione dei personaggi che fino ai capitoli precedenti ci hanno accompagnato e abbia anche rovinato il finale bellissimo che si era tenuto nel terzo capitolo. Vi metto sempre un link in descrizione, vi metto sempre un link qui da qualche parte se volete recuperare questo video, è un pochino più lunghetto, ma se fate parte di quella piccola cerchia di persone che la pensa come me, magari vi farà piacere la sceneggiatura originale. Sceneggiatura originale c'era candidato anche qui, c'era una volta ad Hollywood, ma ha vinto Parasite, grandissima vittoria di Parasite che ha portato a casa ben quattro statuette, tra cui sceneggiatura originale. Parasite è uno di quei film che a prescindere dagli Oscar avrei voluto tantissimo andare a vedere, spero proprio perché ha vinto questi Oscar, che lo tengono ancora un pochino nelle sale così vado a vederlo appena ho tempo e farò una recensione. Mentre sceneggiatura originale, se la porta a casa, e ne sono molto felice, Jojo Rabbit, non originale perché Jojo Rabbit è tratto da un libro, anche se è tratto molto liberamente da un libro, come molto liberamente è stato tratto Joker di Todd Phillips dal personaggio dei fumetti Joker, che era tra i vari candidati. Però sono molto più felice che l'abbia vinto Jojo Rabbit. Ovviamente ho fatto una recensione anche su Jojo Rabbit che vi metto qui, così l'andate a recuperare. Gli altri candidati erano Piccole Donne, ovviamente, tratto dal libro Piccole Donne, I Due Papi, tratto dalla vita vera dei Due Papi, non lo so. Anche questo l'ho visto, mi è piaciuto molto. Fatemi sapere se volete che ne faccia una recensione. È un po' di nicchia come argomento, però me ne intendo abbastanza dell'argomento chiesa, quindi se volete ne parliamo. E in ultimo The Irishman, che non so perché non sia una sceneggiatura non originale. Anche di The Irishman non l'ho ancora visto perché dura tre ore e non mi intendo molto di film quel genere, però se volete me lo guardo e ne parliamo. Anche se non so assicurarvi quando, perché ho davvero tanto materiale da pubblicare. C'era una volta a Hollywood, ha vinto anche un secondo Oscar come miglior scenografia, miglior attrice non protagonista. Io votavo per Scarlett Johansson in Jojo Rabbit, ha vinto però Laura Dern in Storia di un matrimonio. Tra l'altro, Storia di un matrimonio dove Scarlett Johansson è attrice protagonista ed era candidata come attrice protagonista in Storia di un matrimonio. Purtroppo Scarlett Johansson non ha vinto manco quello, perché gli è stato soffiato il premio da René Zellweger, che ha vinto interpretando Judy Garland in Judy, mentre la miglior fotografia se la giudica 1917. Era candidato anche Joker, che ha una fotografia molto particolare. Ne ho parlato in una live, tra l'altro, della fotografia del Joker come fosse tutto molto ocra, tutto molto verde e non in senso positivo, in senso molto quasi malato. Tra l'altro sono gli stessi colori che hanno usato in Jojo Rabbit, anche se in Jojo Rabbit erano molto più pastello. E peccato appunto che Jojo Rabbit non sia stato candidato. Erano candidati invece oltre a Joker anche C'era una volta da Hollywood, bellissima fotografia, The Irishman e The Lighthouse, che non ho ancora visto. Oscar mancato per Avengers Endgame, che già era candidato solo a questa categoria, cioè a effetti visivi, perché tanti traducono effetti speciali, ma migliori effetti visivi, era l'unica categoria in cui era candidato e non si è aggiudicato questo premio. Se l'è aggiudicato 1917. Miglior film internazionale, che è la nuova nomea che ha il miglior film straniero, l'ha vinto appunto Parasite, quindi parlavo appunto di quattro Oscar, il secondo è questo. Miglior colonna sonora lo ha vinto Joker, che già aveva vinto anche ai Golden Globe per miglior colonna sonora, che effettivamente è bellissima da quanto ti dia fastidio, ti dà una sensazione di compressione toracica quella colonna sonora, oltre alle scene che aiutano molto a comprimerti il torace. È dato molto dalla colonna sonora, questa cosa è affatto bene a vincere. Era in gara con 1917, Marriage Story, storia di un matrimonio, piccole donne, e Star Wars, l'ascesa di Skywalker. Sono felicissimo che abbia vinto Joker. La miglior regia l'ha vinta, e siamo al terzo Oscar, Parasite, regista Bong Joon-ho, non so come si pronunci, ed era in gara con persone del calibro di Martin Scorsese con The Irishman, di Sam Mendes che ha fatto 1917, c'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino, e Joker di Todd Phillips. Miglior film che appunto, lo dice la parola stessa, è miglior film in assoluto, quindi sceneggiatura, montaggio, sonoro, colonna sonora, attori protagonisti, non protagonisti, l'ha vinto di nuovo Parasite, e siamo alla quarta statuetta per Parasite. Film sudcoreano che se l'è battuta con, ancora, c'era una volta Hollywood, storia di un matrimonio, Joker, piccole donne, The Irishman 1917, Jojo Rabbit e Le Mans 66, la grande sfida. Sono comunque molto felice perché è un risultato storico, non era mai, mai successo che un film non americano vincesse come miglior film, quindi gli Oscar dell'altra sera sono un'edizione storica per questa premiazione, perché appunto è la prima volta che è successo. Il miglior attore protagonista, come speravo e credevo, ha vinto Joaquin Phoenix in Joker, Joaquin Phoenix in Joker, o Joaquin Phoenix in Hawker, fate voi. Ma parliamo finalmente di qualcosa di un pochino più divertente, ovvero i Razzi Awards, ovvero i peggiori film del 2017, che però al momento non hanno ancora dei vincitori, hanno solo le nomination, non si sa quando usciranno i vincitori. Ma vi leggo comunque le nomination perché già di loro fanno ridere. È stato Distrutto Cats, che uscirà a breve in Italia, uscirà il 20 febbraio, è già uscito in America, è già stato un flop di critica, un flop di botteghino, degli effetti speciali orrendi che hanno creato dagli ibridi umani gatti che non sono piaciuti a nessuno. Un budget oltre i 100, anzi scusate, leggermente sotto i 100 milioni di dollari, con un guadagno di circa, non so se 60-80 mila dollari. Un flop totale, tant'è che gli stessi attori si autoprendono in giro già a distanza di pochi mesi dall'uscita. Quindi tra i peggiori film, e credo proprio che vincerà Cats, ci sono Cats, The Fanatic, Sharon Tate, tra Incubo e realtà, che è una specie di docufilm su appunto la storia di Sharon Tate e della famiglia Manson, Am D, A Family Funeral, di Tyler Perry, che non so chi sia, e Rambo, The Last Blood, l'ultimo film di Rambo con Sylvester Stallone. Peggior attore, James Franco e Te Parevane, ha vinti diversi, David Harbour in Hellboy, che ho commentato, è stato il mio primo video del canale, Hellboy, e non mi è piaciuto per niente, quindi se volete andarvi a recuperare il mio primo video, così vedete anche un po' la qualità che avevo nel primo video, e di come si è migliorata adesso, se vi fa piacere, se la notate, fatemelo sapere. Matthew McConaughey in Serenity, peccato, non l'ho ancora visto, sembrava carino dal trailer, Sylvester Stallone in Rambo, Last Blood, e John Travolta in The Fenery. Peggior attrice, Hilary Duff, che francamente non credevo che stesse ancora lavorando, sono felice che abbia lavorato, anche se abbia fatto un film orrendo, con Sharon Tate, tra incubo e realtà, Han Hathaway in Attenti a Quelle Due, Rebel Wilson in Attenti a Quelle Due, sempre con Han Hathaway. Rebel Wilson ha fatto una performance molto simpatica in Jojo Rabbit. Peggior attore non protagonista, vi dico solo quello che conosco, Bruce Willis in Glass. Effettivamente Glass non è il miglior film della trilogia, di Unbreakable, Split e Glass, diciamo che un pochino sputtana gli altri due, perché gli altri due erano molto molto belli, molto molto realistici, Glass ci porta su un altro terreno che non ha reso giustizia ai precedenti film. Peccato perché Shyamalan poteva osare molto di più. Peggior attrice non protagonista, c'è Jessica Chanstein in X-Men Dark Phoenix, che ho commentato in una recensione anche quello, purtroppo non è un film apprezzato, e c'è anche Rebel Wilson in Cats, ha fatto pure Cats Rebel Wilson. Tra l'altro andate a recuperare la loro premiazione agli Oscar per migliori effetti visivi, in cui Rebel Wilson ha premiato Vestita da Gatto. Tra i peggior registi c'è Neil Marshall, il regista di Hellboy, c'è Tom Hopper, il regista di Cats, e Adrian Grunberg, il regista di Rambo, The Last Blood, oltre a James Franco, che è anche il regista di Zero Will. Come peggior sceneggiatura c'è Cats! peggior sceneggiatura Sharon Tate, peggior sceneggiatura Hellboy, e ancora Rambo, The Last Blood, chissà chi sarà il Parasite dei Razzi Awards. Io punto molto su Cats, ma credo che anche Rambo se la giochi. C'è il Razzi Redeemer Award, cioè il premio dato a quelle stars dimenticate che hanno fatto un film per tornare in auge, fallendo probabilmente. Tra questi c'è Jennifer Lopez, Eddie Murphy, in Dolemite Is My Name, che trovate su Netflix, c'è Keanu Reeves per John Wick 3, che francamente non mi spiego, e c'è anche Toy Story 4. C'è Will Smith per Aladdin, e Adam Sandler per Diamanti Grezzi, Uncut Gems, che è su Netflix, che dal trailer sembra anche carino, ma non così carino da volermelo far vedere al momento. C'è uno strano Razzi Awards che non sapevo esistesse, ma mi ha incuriosito molto quando ho saputo che Joker di Todd Phillips ne fa parte, ovvero peggior disprezzo per la vita umana e la proprietà pubblica. Joker è tra i candidati, insieme a Hellboy, insieme a Rambo, Last Blood, chissà perché, chissà cosa succede nel film, Sharon Tate è tra incubo. In realtà, per ovvi motivi, mi dispiace, pace all'anima sua, suppongo per il fatto che la famiglia Manson entri in casa di Sharon Tate e la uccida, e così il figlio che aveva in grembo, questo è un fatto realmente accaduto, purtroppo, e Dragged Across Concrete, che non conosco. C'è peggior prequel, remake, ripoff o sequel, e sono candidati X-Men, Dark Phoenix, giustamente, Godzilla 2, King of the Monster, non l'ho visto, non mi piacciono i film su Godzilla, ma mi fido, Hellboy del 2019, giustamente, e poi Rambo, Last Blood, povero stallone, e Amadea Family Funeral. Ma passiamo alla categoria che mi ha fatto più ridere in assoluto, che è peggior coppia. Peggior coppia sono nominati qualsiasi palla di pelo di mezzi felini e mezzi umani in Cats, dopodiché Jason Derulo e il suo rigonfiamento dimezzato con la CGI in Cats, Tyler Perry e Tyler Perry in Amadea Family Funeral, non so cosa significhi, probabilmente fa un doppio ruolo, ma non sono così curioso di andare a vedere il film. Sylvester Stallone e la sua rabbia impotente in Rambo, Last Blood, e infine, John Travolta e qualsiasi sceneggiatura abbia accettato, punto molto, su questa vittoria, perché già di suo fa ridere così. Bene, io mi sono dilungato fin troppo, tant'è che probabilmente taglierò o avrò tagliato qualche categoria negli Oscar che francamente non ci interessa, ma sono molto felice di aver parlato un po' dei Razzi Awards, tanto così per variare, perché tanto degli Oscars ne stanno parlando tutti, trovate tutti gli altri video di persone molto più influenti di me, quindi, ma che ci frega di parlare di quello, parliamo di cose un po' più divertenti. Io con questo vi saluto con l'inchino e con l'imbuto e arrivederci al prossimo video.